Cazzo quel bel rumore Cazzo che scena, fa la sua scena Cazzo che scena, fa la sua scena Cazzo che scena, fa la sua scena È strano quello volato, è poco reattivo Sotto pesa il modello? 3,5 kg Poverino con il motore nuovo, glielo fa siudare Sì? Ma che va già bene Va già bene? Sì, vuoi? No, 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 prova dopo te a terrare, fai chiuso te, io c'ho paura Cosa sono questi rumori? Senti voi con la radio? No Perché faceva BBBB sta radio? Allora magari... Hai toccato quelli davanti, non ti preoccupare Metri il davanti Gira benissimo Prova a sparare E ai tuoi? E? Tata ta 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 No, seconda volta che non va Torna giu A velocità alte fa qualcosa di sbagliato Non rispondeva il piano di coda o è piccolo il servo 5 kg di servo lo mettiamo alle corte o dai di più forte ti metti già giù? lo metti già giù? si, si aspetta, ma come mi giù? sono lungo uff quello è freno a mano quando è tutto emologico ho fatto il passaggio così quando... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.